Ettore Bucci, Associazione Acuta, oggi a Ortona, una giornata dedicata alle premiazioni di artigiani che hanno fatto la storia del territorio, ad iniziare dal maestro Trivilino. Una giornata davvero di festa? Sì, una giornata di festa, una giornata importante, una giornata che sta a significare che tutto ciò che è stato non può essere dimenticato, tutto ciò che appartiene alla tradizione non può essere dimenticato. I maestri Pietro e Peppino sono cuore e anima, sono stati, ma sono tuttora, cuore e anima di questa città. Ma non solo loro che sono stati nell'ambito dell'artigianato artistico estremamente importante. Abbiamo voluto premiare anche due artigiani, nella fattispecie Giuseppe Graziani e Rocco Di Carlo, che sono due semplici barbieri che però esercitano da 70 anni questa attività. Ed io penso che queste cose non possano passare in silenzio. È necessario riconoscere a queste persone tutto quello che fanno e la loro importanza sul territorio. Il maestro Pietro Trivilino però ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'artigianato ortonese e abruzzese. Il maestro Trivilino ha lasciato un segno indelebile, importantissimo, però è importante che questo segno indelebile vada in un certo qual modo trasportato verso i giovani e che i giovani vengano a conoscenza di tutto quello che è stato. Vede ACUTA, il cui acronimo sta per arte, cultura, territorio e artigianato, non vuole essere altro che questo, il mezzo per portare a conoscenza e soprattutto per formare nuovi ragazzi nell'ambito dell'artigianato, dell'arte e della cultura. Di fatto lo facciamo con insegnanti, lo facciamo con professionisti estremamente importanti del territorio e tutto questo lo facciamo soprattutto per riportare in auge ciò che ingiustamente è stato dimenticato. ACUTA vuole essere il mezzo, la prospettiva per il futuro. A presto. Non pari. A presto.